Cioè, pochino per la verità, ma sai, molte squadre che incontrano il Milan sembrano poi tutti come il Ljubljana. Abbiamo visto questa azione di Ubavic parata da Rossi. Sì, grande parata di Rossi perché poi è difficile parare quando non si tira, non si è quasi mai impegnato, perché c'è stata una dormita un po' dalla difesa del Milan, e vedete come sia stato bravo Rossi a intervenire di pugno, può togliere questo polone dal sette, comunque ripeto, il Ljubljana non è che sia una grande squadra. Ecco, questa è la più grande parata della partita da parte di Rossi sul colpo di testa di Topic. È stato bravissimo, tra l'altro, perché dovevo ricordare che il terreno bagnato e il pallone acquista velocitale. Rossi è stato molto bravo, potete notare che un tiro raso terra è molto più difficile per portare.